si è rialzando dacci le mani Lidia dacci le mani Lidia dacci le mani che è una cosa da quando era ridicola no non come lei porco cane basta adesso fa la tac tac vai tu che fai tac tac e no almeno che vada lì infatti Lidia dove vai dove vai con su quelle scarpe Lidia come fai a passare lì vai là vicino alla Lidia che le faccio anche a te